Sono quattro i tirocinanti che hanno sottoscritto il protocollo di intesa con la società consortile Comunità Sensibile, il comune di Corbara e l'ente formatore Messieri Campania. Alla presenza del primo cittadino Pietro Pentangelo dei vertici della consortile dei formatori responsabili del progetto, la firma dei quattro tirocinanti che hanno siglato il patto formativo che li impegnerà in vari settori comunali. Sono una delle tante misure che permettono di instaurare un rapporto attivo tra il welfare pubblico, quello degli enti locali, dei piani di zona, dello Stato in generale, e il cittadino che si attiva in un percorso di formazione e di miglioramento perché al termine di questo percorso possa avere più occasioni di accedere al mondo del lavoro e quindi migliorare la sua posizione sociale ed economica. Sono in un momento importante come lo sono stati anche altre misure, ricordo l'ITIA, ricordo anche altri progetti mirati alla crescita e allo sviluppo delle capacità lavorative dei cittadini professionali o di altro tipo, ma che permettono di spendere poi sul mercato queste risorse a favore dell'azienda e di tutti coloro che vogliono ospitare nuova forza lavoro. Sono importanti perché affiangono nel nostro caso il servizio civico comunale con il quale noi riusciamo a far lavorare tante persone, togliendole dall'emarginazione sociale ed economica, offrendo loro la prospettiva di un impegno sociale a favore della comunità e in cambio del quale loro ottengono un'indennità mensile che le aiuta ad aspettare occasioni lavorative ancora più congrue ed importanti.